ciao a tutti buongiorno allora volevo farvi vedere velocemente la colazione di stamattina allora ho preparato un orzo un orzo bio e che macchierò con questo latte di grano saraceno se ve lo faccio vedere è buonissimo l'ho assaggiata anche da solo è molto buono però deve piacere il gusto del grano saraceno è che è un po particolare ecco qui poi ho fatto ieri il pane sempre fatto di farina di grano saraceno ecco questo è il colore che viene ed è buonissimo e ci ho messo sopra il burro di soia della provamel e una marmellata di fragole fatta in casa che ho fatto io un po di tempo fa bella l'etichetta e poi mangerò uno yogurt sempre fatto da me coi fermenti lattici questo qui adesso se riesco un attimo eccolo viene buonissimo fatto con i fermenti lattici vivi continuano a crescere danno una grande soddisfazione e adesso vi saluto vi auguro buona giornata a tutti ciao ciao